Caldo torrido e brezze estive, sempre più rare, il clima condiziona sempre di più la nostra vita, l'economia e la salute. Nella classifica delle città con il clima migliore, Napoli si piatta al 79esimo posto. Caratterizzata dalle notte tropicale e ondate di calore, il capoluogo partenopeo ha cambiato il suo clima. A dirlo, l'Indice di Vivibilità Climatica 2023, realizzato dal Corriere della Sera con il Meteo.it, che analizza le variazioni atmosferiche per creare un po' più di consapevolezza sui cambiamenti in corso, grazie ad una serie di parametri che vanno dalla brezza estiva all'escursione termica, dalle notti tropicali fino agli eventi estremi. Guardando la classifica generale, realizzata sommando i punti dei vari parametri e guidata da Imperia, Biella e Agrigento, ecco che la prima delle città campane è Avellino, al 55esimo posto, seguita da Napoli per l'appunto al 79esimo. Salerno all'ottantasettesimo posto, Benevento all'ottantottesimo e Caserta al novantasettesimo. A gravare in particolare sulla performance di Napoli sono state le notti tropicali, ossia quelle in cui la temperatura media tra le 21 e le 8 del mattino non è scesa sotto i 20 gradi. Notti che nel 2023 sono state ben 93 a cui andrebbero aggiunte anche le ondate di calore. Guardando agli altri capoluoghi di provincia campani, quello che ha avuto il miglior clima quest'anno è stato Avellino, dove a non permettere una performance migliore sono state le 89 giornate di pioggia e in particolare le 17 di pioggia intensa. Continuando verso il basso, nella classifica troviamo Salerno con 18 giorni di pioggia intense che è stata al 16esimo posto tra tutte le città per numero di ondate di calore. Un parametro che ha influenzato il posizionamento di Benevento che oltre ad essere stata soggetta a molte ondate di calore, ha patito di più le escursioni termiche con una media annuale di 10,5 gradi. Maglia nera della campania per indice di vivibilità climatica è caserta che tuttavia è persino migliorata rispetto agli anni precedenti, ma ha comunque avuto 52 giorni di nebbia, 89 di pioggia e 11 di pioggia intensa, 70 notti tropicali ed una sesta per ondata di calore. Intanto, proprio da oggi, in campania inizia la criticità lanciata alla protezione civile per le ondate di calore. Sono previste temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5-6 gradi associate ad un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero potrà superare anche il 60-70% e in condizioni di scarsa ventilazione. Le autorità locali competenti spiega in una nota la protezione civile regionale sono invitate a porre in essere le procedure di propria pertinenza relativa alla vigilanza per le fasce tragili della popolazione.